Ciao, oggi parliamo di file multimediali, cioè di video, di foto e di come poterli gestire all'interno della nostra presentazione. Abbiamo già visto che è possibile sia utilizzare le foto che si trovano a disposizione nella galleria, sia caricare delle foto che hai sul computer e che hai preparato apposta per la presentazione. Cominciamo creando una pagina nuova. Automaticamente si aprirà una pagina nello stesso stile che abbiamo scelto, però noi la possiamo anche cambiare, ormai lo sappiamo. Non ci piace questo colore perché è troppo scuro, ne teniamo magari uno chiaro chiaro, ecco qua. Vedi che io sono sempre andata a cercare un colore comunque all'interno dei colori della mia presentazione. Ho scelto questo colore chiaro perché non so ancora quali fotografie metterò e quindi mi dà la possibilità di vederle bene e poi eventualmente di cambiarlo. Andiamo sull'icona foto e scegliamo gatto. Sai che in questo modo è più facile la ricerca. Vado subito a vedere quello che fa per me. Ecco qua. Decido di mettere questa qui. Questa è una foto che si abbina molto bene alla mia presentazione intanto perché? Perché questa parte ricorda il cartoncino della copertina. Vedi? Quindi sembra proprio creata per noi. Io voglio parlare di una caratteristica del gatto che è la curiosità e quindi questo che è l'immagine di un gatto che sbuca da qua dietro e osserva mi sembra un'immagine che vada proprio bene. Una cosa a cui devi fare attenzione è che le immagini che abbini alla tua presentazione siano coerenti. Cosa significa? Significa che quando io vado a scorrere tutta questa roba qui trovo tantissime foto bellissime di gattini, di guarda questo che sta giocando e quindi il pericolo è quello di farsi prendere dal piacere, dalla piacevolezza di un'immagine ma che non c'entra niente con quello che vogliamo dire. Anche questo contribuisce alla buona riuscita di un lavoro. Quindi noi scegliamo un'immagine e cerchiamo di sceglierla in modo che sia coerente con quello che vogliamo dire. Metto l'immagine qui, la taglio un pochino perché mi sembra un po' troppo grande, ecco qua, fine, e scrivo all'interno dell'immagine l'argomento di cui voglio parlare, che voglio approfondire. Quindi vado a prendere testo, i gatti sono curiosi, cambio il carattere perché questo qua non mi piace, vado a prendere questo qui, lo allargo un po', lo prendo e lo metto qua. Quindi aggiungere una foto è facilissimo, abbiamo già visto che io posso cercarla nella galleria, posso anche caricarla direttamente dal mio computer se ho già preparato qualcosa che mi serve. Attento se prendi le immagini scaricandole da internet perché, come saprai, c'è un diritto di chi le ha fatte quelle immagini, quindi io non posso utilizzare fotografie fatte da altri, a meno che l'autore della fotografia non lo specifichi apertamente, cioè sai che devi andare a vedere nei dettagli di quella fotografia se è una fotografia con una licenza per poterla utilizzare. altrimenti io ti consiglio o di scattare delle foto tue, che tra l'altro danno veramente un valore in più al lavoro che prepari, oppure di andarle a scegliere all'interno della galleria di Canva il quale ti presenta un tale numero di foto che sicuramente troverai quella che ti serve e queste sono già fotografie che tu puoi utilizzare senza nessun problema. Quindi perdiamo questa abitudine di andare su internet, scaricare il lavoro degli altri e poi inserirlo nel nostro perché è veramente un atteggiamento molto scorretto. Oltre all'immagine io posso caricare dei video e posso metterli all'interno della stessa pagina. Facciamo così. Adesso riduciamo un po' questo, bene, e creiamo spazio per il video. Attenzione, vedi che lo sfondo però di questa immagine mal si combina con lo sfondo che abbiamo scelto prima, perché sembra quasi un errore. Allora non faccio altro che scegliere un grigio un po' più scuro, guarda come risalta, in modo da dare risalto all'immagine che ho inserito. Bene, adesso vediamo invece se io voglio inserire un video. Per il video vale lo stesso discorso, allora io posso aver preparato un video con il mio di gatto di casa e quindi decidere di caricare quello. Allora per caricare quello vado su caricamenti, carica file e vado a cercare all'interno del mio computer un video che ho preparato io. Oppure posso andare nell'icona video e andare a cercare un video che mi interessi. Io devo, come dicevamo prima, sapere che cosa voglio. Adesso io voglio parlare del fatto che i gatti sono molto agili. Allora andrò a cercare sempre tramite la casella di ricerca gatti e vado a cercare un video che mi fa vedere l'agilità del gatto. Ecco ad esempio questo che sta dormendo sicuramente c'entra poco. Oppure questo, molto carino, però non c'entra niente. Vedi che se io passo il cursore senza bisogno di schiacciare nulla mi dà già un'anteprima di quello che vedrò. In più ogni video ha la durata della riproduzione. Uh, guarda questo, questo è quello che fa per me. Allora io lo clicco ed ecco che lui me lo inserisce nella pagina. Prima di rimpicciolirlo vediamo un po' questo video insieme. Eh beh, direi che va proprio bene. E' una bellissima ripresa al rallentatore che mi fa vedere l'agilità del gatto. E poi prosegue col gatto che salta. Direi che va proprio bene, eh? Anzi poi qui salta il ramo senza neanche sfiorarlo. Ok, decido che lo tengo, però è troppo lungo. E' troppo lungo. A me in fondo interessa soltanto il primo pezzo che è forse il più significativo. Che cosa faccio? Qui dove c'è il simbolo delle forbici posso gestire la lunghezza del video. Vedi? Questa barrettina ti fa vedere man mano il punto in cui siamo. Ecco qua. Direi che va bene così. Sì. Voglio fermarlo qui. Vado in fondo dove c'è questa maniglietta viola tenendo premuto il tasto sinistro del mouse lo trascino all'indietro fino ad arrivare al punto ecco qua diciamo che mi bastano questi 15 secondi poi cosa faccio? Lo riduco perché è troppo grosso lo metto qua questo riduco un pochino anche questo adesso voglio creare una parte bianca che assomigli a quella dell'immagine sotto perché abbia lo stesso stile come faccio? vado in elementi forme prendo una forma la metto ecco qua della stessa dimensione di quella sotto non ha importanza se si sovrappone perché tanto abbiamo capito che poi lo possiamo mettere dietro devo cambiare lo sfondo però perché questo marrone è veramente terribile allora vado qui avrei bisogno di questo colore come faccio? ti ricordi? vado qui prendo la pipetta la metto qua clicco ed ecco che è dello stesso colore di quello sotto più o meno correggiamo correggiamo un pochino che era un pochino più scuro forse lo vado a prendere da qua ecco mettilo qui benissimo e lui me l'ha aggiunto adesso non faccio altro che creare una scritta inserendo testo metterò ovviamente lo stesso stile che ho messo sotto che sono vedi tra quelli che sono stati usati di recente quindi lo trovo subito diciamo che lo metto qui e riporto però in avanti il mio video perché non voglio sprecarlo casomai faccio così casomai allargo un po' da questa parte ecco sposto la scritta benissimo e io ho creato ho inserito in una pagina un video andiamo a vedere quello che succede se io presento il mio lavoro ecco qua nella stessa pagina vedi parte il mio video e mi fa vedere l'agilità del gatto quindi ricapitolando abbiamo visto come gestire le foto come inserire dei video e qui è che è l'agilità del gatto Grazie.